A proposito dei workshop che sono in programma in questa giornata, vi ricordo che attualmente alla sala B è in corso con l'ingegnere Adalberto Biasiotti il workshop Una nuova professionalità il responsabile della protezione dei dati personali, cioè il cosiddetto privacy officer, il data protection officer di cui stiamo parlando abbondantemente stamani. Poi invece a seguire, quindi tra circa 20 minuti, sempre nella sala B, Polaris ha organizzato un workshop dalla normativa privacy alla protezione aziendale. Saranno il dottor Daniele Gombi, insieme a Guilamo Scaiola, a svolgere questo approfondimento tematico. Adesso ci fa piacere avere con noi, tra i nostri ospiti di spicco, l'avvocato Rosario Imperiali, che sempre in tema di regolamento europeo ci parlerà in effetti di un aspetto che stiamo realizzando, si sentiva anche prima nei discorsi precedenti, di sempre più sostanza che sarà richiesta e meno formalità, meno burocrazia. A proposito di questo, quindi rispetto alle nuove regole europee, invitiamo l'avvocato Rosario Imperiali, richiesti alle imprese, meno formalismi e più sostanza con il principio di accountability. Grazie, avvocato Imperiali, di essere con noi oggi. Bene, buongiorno a tutti. Molto bello vedervi così numerosi a questo nostro incontro, oramai è diventato un'occasione ripetuta nel tempo. Io cercherò di volare un po' alto in considerazione del fatto che c'è una certa turbolenza nella gestione di queste materie. e quindi per essere utile, per cercare di avere un po' la bussola che ci possa guidare nel corso di questi prossimi tempi, addirittura si parla di anni, mi sembra che possa essere interessante avere dei principi di riferimento. Ebbene, così, facendo qualche riflessione, pensavo che l'universo e le costellazioni stellari, ma anche la fisica quantistica con quella delle particelle elementari, denotano una regola fondamentale che è quella del giusto equilibrio tra entropia ed entalpia, cioè tra queste forze centrifughe e le forze centripete, potremmo dire tra autonomia e regole di governo. Ma il principio dell'equilibrio non è solo un retaggio della scienza o della fisica e invade anche importanti religioni o filosofie. Immagino che voi vi stiate chiedendo ma che cosa centri tutto questo con la tutela dei dati personali. Io ritengo che centri, nel senso che l'argomento che ci vede qui riuniti è a cavallo tra due principi apparentemente antagonisti, entropia ed entalpia, libertà di informazione e governo delle regole. E questa situazione si ripercuote nel corso della gestione normativa ed è un po' il filo rosso che io vorrei mantenere in questa nostra chiacchierata di oggi. Era il gennaio del 2010 quando il famoso fondatore di Facebook guadagnò le prime pagine dei media internazionali con la sua famosa provocazione e la privacy è morta. Io in tutte le occasioni in cui mi è stato possibile ho contrastato vivamente questa affermazione ritenendola non veritiera. Ma poi, sempre con la riflessione del dopo, mi è sembrato che ci fosse un profilo di verità in questa dichiarazione. e vorrei comunicarlo qui sì, io concordo la privacy è morta almeno un certo tipo di privacy dove il web 2, ad esempio sembrerebbe dimostrare che i dati generati dallo stesso utente non facciano, non diano spazio non facciano trovare residenza a questo concetto di privacy ebbene, però dovremmo qui una volta e per tutti dire che anche i termini hanno un loro fondamento e quello che noi chiamiamo privacy in effetti è la tutela dei dati personali cioè non è più quel concetto di riservatezza di cui ciascuno di noi ha diritto quando si trova all'interno delle proprie mure domestiche e che poi si diluisce fino addirittura a scomparire quando ci esponiamo al pubblico ecco, quel tipo di privacy che è caratterizzata dal ritenere che vi sia un potere esclusivo dell'individuo nello stabilire quando lui è riservato o rientra nella sfera della riservatezza e quando invece la può perdere quel tipo di privacy nel web 2 a mio parere è morta ma la tutela dei dati personali così come disciplinata la direttiva 9546 e poi divenuto diritto fondamentale dell'individuo in base alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata con il trattato di Lisbona e quindi divenuto trattato esso stesso quindi vincolante con vincolatività giuridica è qualcosa di diverso è una tutela dell'informazione ed essa sta a intendere sicurezza dell'informazione e corretta gestione della stessa e quindi non c'è nulla da equivocare o da risultare strano che persino i dati generati dall'utente meritino di avere un adeguato livello di sicurezza ed una corretta gestione due anni dopo la famosa frase di Zuckerberg la Commissione si decideva a rendere pubblica la propria proposta di riforma il regolamento di cui parliamo adesso e l'attesa non è stata tradita perché si è trattata di un'onda tellurica di una magnitudo esponenzialmente superiore è contraria alla dichiarazione di Zuckerberg la privacy la privacy è ancora in vita e regola le relazioni economiche e sociali degli individui proprio in considerazione del fatto che tramite la tutela dei dati personali si vuole contribuire allo sviluppo del mercato e fare in modo che ci si possa valere di tutte le grandi opportunità che la tecnica la scienza la tecnologia mettono a disposizione senza che vi siano effetti collaterali a danno degli individui e badate bene individui non consumatori e allora la proposta di regolamento ha voluto sottolineare un assunto particolare cioè vale a dire che un'adeguata tutela è propedeutica allo sviluppo economico e quindi questo in particolare perché la regola quindi l'entalpia consente di far crescere la fiducia e la fiducia è lo strumento fondamentale per lo sviluppo del mercato sia online che offline ebbene come si diceva in precedenza si tratta di una riforma sostanziale ma io direi si tratta di una rivoluzione culturale e non c'è più un atteggiamento di riferimento a forma ad adempimento ma vi è una richiesta che vi sia un adeguato assetto di regole equilibrate che consentano di controbilanciare la potenziale rischiosità di questa attività e quindi l'asse di bilanciamento del regolamento viene trovato proprio in questo equilibrio tra come dicevo prima entropia ed entalpia ma in effetti gli effetti di questa riforma non si esauriscono semplicemente all'interno dei confini europei vi è una significativa reazione a domino nel senso che l'Europa è vista con particolare attenzione da altri attori internazionali e guarda caso sono proprio quegli attori che hanno avuto voce in capitolo sul tema e mi riferisco all'associazione della cooperazione economica dei paesi dell'Asia e del Pacifico la cosiddetta APEC che ha sottoscritto una piattaforma comune per la disciplina della tutela dei dati personali nel 2005 e che ha in corso un aggiornamento della stessa sospeso proprio per verificare gli sviluppi della attività di approvazione del regolamento e lo stesso è per il Consiglio d'Europa che è l'autore della famosa convenzione 108 del 2001 l'unico trattato internazionale fino ad oggi a disciplinare della materia con effetto vincolante per tutti i paesi aderenti e anche essa è sospesa nella sua fase di aggiornamento in attesa degli esiti di questa di questo regolamento e allo stesso tempo l'Ocse che vuole aggiornare ha bisogno di aggiornare le proprie linee guida del 1980 si diceva prima si tratta di una vera rivoluzione culturale perché in effetti si passa da un principio proibizionista contenuto nella direttiva che è il principio secondo cui il trattamento dei dati personali è vietato salvo che a un principio liberista e qui di nuovo vediamo l'equilibrio il principio che il trattamento dei dati personali è consentito a condizione che e tanto è vero che la direttiva pone questa proibizione di carattere generale poi suffragata dai requisiti di legittimità che consentono invece lo svolgimento del trattamento in considerazione non solo del fatto che l'attività è rischiosa ma anche per la mancanza di una adeguata piattaforma giuridica di salvaguardia tant'è che i principi di regole contenuti nella direttiva al capitolo 2 non sono altro che dei principi generali o anche il riconoscimento dei diritti dell'interessato l'obbligo di trasparenza le misure di sicurezza all'obbligo di notificazione se vedete è sin troppo poco per considerare che vi sia una piattaforma regolatoria e quindi in effetti ci troviamo dinanzi a una situazione in cui nel regolamento si ribalta la posizione la posizione è quella che il trattamento è consentito nel momento in cui vi sia quella che io chiamo un data protection compliance program cioè un assetto organico sistematico di processi procedure organi indipendenti valutazioni di impatto analisi dei rischi tutto inserito in un approccio sistematico e che abbia una sua motivazione un suo come si diceva prima un suo obiettivo ebbene se mi si chiedesse di esprimere con un solo termine il senso di questa riforma o come dicevamo prima di questa rivoluzione io penserei al termine effettività che a mio parere dà bene l'idea del contrasto con quelli di forma e di adempimento che sono invece tipici della direttiva 9546 ed in effetti quello che si è cercato di instaurare con il regolamento è un passaggio da un discorso di adempimenti formali a comportamenti conseguenti alle prescrizioni normative la proposta di regolamento infatti cerca di creare un modello legale di gestione dell'organizzazione aziendale ebbene guardate che è un fatto particolarmente significativo nella strategia di tecnica normativa perché il legislatore ha abbandonato una modalità che è quella di stabilire prescrizioni di carattere generale e ha invece adottato una modalità completamente diversa riducendo i margini di libertà dell'imprenditore ed entrando a gamba tesa nella propria autonomia organizzativa nella libertà di autonomia organizzativa stabilendo un assetto di gestione per ottenere adeguate salvaguardie nella gestione dei dati personali sin dall'inizio quali sono quindi le conseguenze per le aziende bene le conseguenze sono abbastanza significative proprio per i discorsi di prassi che abbiamo sentito stamattina occorre che l'azienda modifichi il proprio atteggiamento sotto il profilo comportamentale da una posizione di approccio formalmente regolare ad un comportamento effettivamente conforme di cui poi avrà la responsabilità piena ed in effetti il modo con cui dimostrare questa che viene chiamata accountability è un intreccio normativo che qui ho cercato di rappresentare in sintesi come vedete è un intreccio di forma e di sostanza di nuovo l'equilibrio l'equilibrio dato dall'obbligo di mantenimento e di manutenzione di una documentazione descrittiva dei trattamenti in corso che è la parte destra della diapositiva e invece un assetto complessivo di misure e di strumenti atti a verificare l'efficacia e l'effettività del programma di compliance che è la parte invece sinistra e allora in conclusione la conclusione è che si ottiene col regolamento un qualche cosa di cui si sentiva da tempo la mancanza quella omogeneità normativa che solo un regolamento poteva dare visto che tramite la direttiva abbiamo ricevuto 27 discipline nazionali tra loro talvolta addirittura contrastanti con una giurisprudenza da parte delle autorità nazionali che nonostante l'organo consultivo del gruppo dei garanti dell'articolo 29 difficilmente riusciva ad avere una forza centripeta il regolamento questo lo consentirà ma con un ma che deve essere ancora valutato quale saranno i margini di discrezionalità dei poteri delegati alla commissione nella bozza pubblicata nel gennaio del 2011 questi margini sono amplissimi mi sembra di ricordare che quasi non vi sia un articolo che sia privo di questa delega nei confronti della commissione ebbene capirete che nel caso in cui la commissione avesse la possibilità di disciplinare in dettaglio i singoli articoli si riaprirebbe nuovamente il problema della omogeneità e troveremmo una situazione ancora di un patchwork normativo all'interno del mercato unitario abbiamo detto non più privacy ma tutela del dato tant'è che nel testo del regolamento non troverete mai scritto più questo termine privacy non esiste quello che noi chiamiamo privacy officer e data protection officer quindi il riferimento alla tutela del dato non è solo un discorso terminologico ma è un discorso necessario per affrontare correttamente ciò che è ai margini dell'evoluzione tecnologica dalla forma alla sostanza un modello di conformità data protection e quindi per prepararsi a questa riforma le aziende hanno bisogno di un cambio rivoluzionario del proprio confronto nei confronti di questa disciplina devono passare ad atteggiarsi nei confronti di questo tema da un mero adempimento tecnico formale sino a considerarlo un vero processo di gestione aziendale grazie 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 grazie